buona signora e buonasera a tutti voi avete visto che bella sfilata che hanno fatto queste due bande con questi due bei colori il rosso con il verde e il bianco ce l'abbiamo intorno quindi abbiamo fatto la bandiera italiana allora questo è il tradizionale concerto natalizio quest'anno come potete notare c'è una novità non facciamo un gemellaggio ma un concerto insieme alla banda di apecchio nostri cugini alla quale va il nostro ringraziamento per aver aderito alla nostra iniziativa venerdì sera abbiamo suonato da pecchio e questa sera ripetiamo qui a piobbico il primo brano è diretto dal maestro Cristian Pazzaglia grazie a tutti 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 grazie a tutti